avete una zucchina in casa e delle uova un vasetto di yogurt un po di macinato ok prepariamo una cena shue shue quindi mettiamo in padella cipolla col macinato nel frattempo abbiamo grattugiato anche la zucchina quindi insieme alla carne mettiamo le nostre spezie aglio paprika un po di sale un po di pepe nel frattempo abbiamo messo il sale nelle zucchine quindi poi le strizziamo per bene perché sennò poi lascia l'acqua anche nel lavoro che andremo a fare che non va bene quindi trasferiamo le zucchine e ecco in una scodella e mettiamo dentro noi siamo in tre quindi tre uova un paio di cucchiai di farina e un vasettino di yogurt quello bianco naturale ok un po di pepe un po di sale quindi la farina come vi ho detto prima e mischiamo il tutto giriamo nel frattempo facciamo scaldare la padella e spruzziamo leggermente dell'olio è per sporcarla e poi ho fatto due versioni una un pochino più alta una sorta di omelet no un pochino più alta l'altra più larga e quindi più bassa ho voluto vedere quale venisse meglio quindi ho lasciato cuocere la parte di sotto quando era era cotta ho capovolto la frittatina e all'interno ho messo l'intingolo che ho preparato prima quindi la trita abbondiamo abbondiamo e una fettina di provola tipo auricchio quelle cose lì insomma se volete potete mettere anche di più è l'ho lasciata che si scaldasse un pochino col coperchio poi ho piegato ho rimesso il coperchio per qualche minuto affinché si possa sciogliere la mozzarella insomma quello che avete messo e il risultato è questo una cena shue shue bisogna avere comunque gli ingredienti è stata una cosa veloce ma comunque bisogna avere gli ingredienti a casa organizzatevi per quelle sere in cui non sapete cosa fare e quindi ecco fatto un'omelette particolarmente diversa quindi ecco wolf ecco